Quanto è essenziale la corretta funzionalità della tiroide materna per la salute della gestante e lo sviluppo sano, corretto del nascituro e in caso di disfunzioni tiroidee, come si interviene, con quali rischi per il futuro bambino? Sono alcuni degli aspetti salienti che tratteremo in questa nuova puntata di Medicina Facile, allora buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buongiorno e bentornata nei nostri studi alla dottoressa Gaetana Parisi che ci dirà tutto sul rapporto tra tiroide e gravidanza. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Sta bene? Sì, senz'altro. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dottoressa Gaetana Parisi, specialista in endocrinologia a casa di cura Pierangeli di Pescara. Allora, come prima domanda le chiedo quanto è importante la funzione della tiroide in gravidanza? La funzione tiroidea in gravidanza è molto importante perché l'ormone tiroideo è indispensabile per lo sviluppo del sistema nervoso centrale del bambino, del cervello del bambino e nel primo trimestre di gravidanza, quando il bambino non ha una sua tiroide, tutto l'ormone tiroideo richiesto per questo viene fornito dalla madre, dalla tiroide materna. Tiroide materna che è costretta a un super lavoro per questo particolare adattamento fisiologico, un aumento di produzione di ormoni tiroidei, quindi un aumento delle richieste di iodio. Ci sono poi tutta una serie di altri meccanismi, per esempio l'aumento delle proteine che trasportano gli ormoni tiroidei, quella sigla tyroxin binding globulin, e l'aumento della gonadotropina corionica prodotta dalla placenta modifica la funzione della madre e ha importanza per il bambino. E questo ha anche un importante significato per quanto riguarda la valutazione dei range di normalità, quindi per l'aspetto diagnostico. Quindi di fatto mi sembra di capire che la funzione della tiroide in gravidanza cambia. Cambia, sì, cambia moltissimo. Dobbiamo sempre tenere presenti gli aspetti materni e quelli fetali. Nel primo trimestre di gravidanza, se posso avere la prima diapositiva, abbiamo una modifica della funzione materna, il grafico in alto è quello della mamma, in fucsia l'aumento della gonadotropina corionica parallela l'aumento della T4 materna, cioè dell'ormone tiroideo e specularmente invece si riduce il TSH materno. Nel bambino, che è il grafico inferiore, fino alla decima settimana il bambino non ha una tiroide. Intorno alla decima settimana compare il TSH neonatale, dalla decima alla ventesima settimana c'è un abbozzo tiroideo che si sta sviluppando, che inizia a concentrare lo iodio, a produrre i precursori, ma fino alla ventesima e oltre settimana non abbiamo una quantità di ormoni tiroidei prodotti in modo significativo e c'è un aumento graduale piuttosto rapido nelle ultime settimane di gravidanza, quindi sono due variazioni nelle due controparti che sono molto significative. E' molto importante. E' molto importante. Qual è l'apporto di iodio raccomandato, dottoressa? In gravidanza, e non dimentichiamo anche in allattamento, è raccomandato un apporto iodico di 250 microgrammi al giorno di iodio e questo può essere raggiunto con integrazioni di vario tipo, di cui la più semplice è l'uso di sale da cucina iodurato, ma adesso ci sono anche degli integratori iodati calcolati precisamente e in gravidanza una raccomandazione che ormai devo dire che è molto seguita è di usare degli integratori per la gravidanza che contengano, fra le altre aggiunte vitaminiche, per esempio, un apporto iodico idoneo a raggiungere questi livelli quotidiani. Per tutto il periodo della gravidanza? Per tutto il periodo della gravidanza. Senta, un funzionamento non regolare della tiroide può influenzare la gravidanza e le malattie della tiroide in gravidanza sono diffuse? Allora, intanto abbiamo detto prima che è fondamentale l'ormone tiroideo per lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Abbiamo anche detto che cambia la funzione tiroidea in gravidanza della madre e è evidente che di conseguenza una ghiandola perfettamente sana è in grado di seguire tutti questi adattamenti complessi. Una ghiandola malata non è in grado, quindi la gravidanza influenza le malattie tiroidee e le malattie tiroidee a loro volta influenzano la gravidanza perché richiedono, dimostrano una difficoltà della ghiandola e evidentemente un'insufficienza può avere delle ripercussioni negative sia sulla gravidanza, nella prossima diapositiva l'avevo messa in evidenza, dobbiamo chiederci una serie di cose, quali eventi avversi si può avere sulla gravidanza e sul bambino, quali sono le problematiche delle diagnosi e se attuare o non attuare uno screening, come gestire la terapia, quando iniziarla, a che livelli, per quanto tempo, tanto che le società internazionali scientifiche come questa American Tiroid Association hanno emanato una serie di raccomandazioni quanto più precise possibile per il singolo caso. Come viene valutata la funzione tiroidea nel periodo della gravidanza? Le metodiche di studio nella prossima diapositiva sono fondamentalmente le stesse che fuori dalla gravidanza. È molto importante la raccolta di una storia clinica personale e familiare, la visita naturalmente, l'esecuzione degli esami di laboratorio e l'ecografia, un ruolo veramente importante, eventualmente estesa all'acqua aspirato. Sono controindicate solo le metodiche che prevedono l'impiego di isotepi radioattivi o comunque di radiazioni per il bambino. Per il resto, la metodica di studio è la stessa, ma i risultati devono essere valutati in modo diverso. Evitare sempre, per quanto possibile, le radiazioni. Evitare le radiazioni, assolutamente. Senta, in caso di ipertiroidismo ci sono differenze per la diagnosi e la terapia? Come viene pianificata la cura e durante la gravidanza i farmaci per l'ipertiroidismo vanno modificati oppure vanno sospesi totalmente? Allora, sull'ipertiroidismo, che è illustrato nella prossima diapositiva, abbiamo una serie di problematiche. Le prime problematiche sono quelle della diagnosi. Abbiamo detto che abbiamo un TSH materno molto basso, quindi dobbiamo capire se è un adattamento, siamo nella fase fisiologica di abbassamento del TSH, ma con T4 normale, o se possiamo essere di fronte a una tirotossicosi vera e propria, e cioè ad un'elevazione anche degli ormoni tiroidei. Esistono delle fasi transitorie, c'è una tirotossicosi gestazionale in cui gli effetti fisiologici di cui avevamo parlato prima sono amplificati da un livello di gonotropina corionica molto elevata per vari motivi, quella classica è la gravidanza gemellare. Un altro aspetto è dover studiare se sono presenti degli anticorpi o meno. Un ipertiroidismo autoimmuno ha un livello elevato di anticorpi, esistono poi gli ipertiroidismi dovuti a noduli e quindi è importante inquadrare esattamente la paziente. Quanto poi alla terapia, gli ipertiroidismi autoimmuni tendono a migliorare nell'andare avanti nella gravidanza, quindi per esempio una paziente che era già ipertiroidea e che giunge la nostra osservazione in un primo trimestre di gravidanza ben controllata con una bassissima posologia di tiro statico può addirittura sospendere il farmaco per poi ovviamente doverlo quasi sempre riprendere nel postpartum. Poi c'è da scegliere il tipo di dosaggio perché quanto dobbiamo dare di tiro statico, quello che serve il minimo indispensabile per evitare danni al bambino mantenendo il TSH fra i valori fisiologici nel range considerato idoneo per la gravidanza o addirittura inferiori purché la tiroxina materna che abbiamo detto è indispensabile sia nei livelli giusti. L'altro aspetto sono i rischi teratogeni, cioè che questi farmaci possano dare delle malformazioni nel bambino. Il propiltio rocile ha effetti meno gravi e quindi nel primo trimestre di gravidanza si preferisce adottare questo farmaco, nel secondo e nel terzo si preferisce adottare il metimazzolo perché il rischio di epatotossicità è maggiore per il propiltio rocile. Quindi scegliamo anche in base alla fase particolare oltre che alla patologia da cui affetta la paziente. Sembra di capire che la gestante deve essere seguita strettamente, molto strettamente. Senta, se la nostra donna gravida ha una tiroidite cronica autoimmune o un ipotiroidismo quali rischi ci potrebbero essere? Allora intanto dobbiamo distinguere, questa è una distinzione fondamentale se mi passa la prima diapositiva da regia, le due principali caratteristiche che definiscono una tiroidite cronica autoimmune e l'ipotiroidismo quindi fanno riferimento alla funzione tiroidea e alla presenza o meno di anticorpi antitiroide. Quindi abbiamo da pazienti che hanno una funzione normale a pazienti che hanno un ipotiroidismo e fra questi quelli che hanno un ipotiroidismo lieve o uno franco. Poi pazienti che hanno tiroidite autoimmune, anticorpi positivi oppure hanno anticorpi negativi. In questo ampio spettro se mi passa la prossima diapositiva, in questo ampio spettro quali sono le domande? Quali effetti avversi ci possiamo aspettare? Possono essere sul concepimento quindi la impossibilità della donna ad ottenere una gravidanza oppure un aborto precoce o le complicanze della gravidanza, quella che preoccupa di più le donne per lo più è di avere un bambino piccolo con uno sviluppo non buono, noi diciamo piccolo per l'età gestazionale e in questo caso addirittura se dobbiamo affrontare una procreazione assistita la terapia può modificare questi rischi, può modificare nella gravidanza normale anche nella gravidanza indotta da procreazione assistita. Nella prossima diapositiva io ho voluto mettere in evidenza una serie di studi perché i quesiti sono tanti. In caso di trattamento è sempre necessario, intanto le chiedo l'eventuale terapia sostitutiva che effetti può causare? Ecco queste sono le domande che si sono posti negli ultimi anni gli studiosi in relazione soprattutto alle segnalazioni sempre più frequenti di aumentati rischi. Il rischio principale, la preoccupazione principale era sul rischio di parto pretermine. In realtà le pazienti con tiroidità autoimmune hanno un rischio di 1,7 volte rispetto a quelle con anticorpi negativi. Ma questo studio interessante... Quindi un rischio basso diciamo? È un rischio alto, è quasi il doppio di rischio di parto pretermine. Ma questo studio è stato in grado di dimostrare che minore era la quota di tiroxina circolante e maggiore il tasso di parto prematuro. Quindi di nuovo facciamo riferimento non solo agli anticorpi positivi ma alla variazione funzionale. Di fatto perché le pazienti con anticorpi positivi hanno meno capacità, la loro tiroide ha meno capacità di adeguarsi a quella complessa serie di adattamenti. L'altro studio riportava il fatto che in pazienti con ipotiroidismo e a questo punto pazienti anticorpi negativi, quindi facciamo riferimento soprattutto alla funzione, la terapia era in grado di ridurre il rischio di parto prematuro. In quelle soprattutto con ipotiroidismo più significativo, quindi TSH superiore a 4 unità millilitro. Mentre era meno evidente in quelle con ipotiroidismo ventre lievi. Quindi nel discorso li dobbiamo trattare o non li dobbiamo trattare sono tanti i parametri da tenere presenti. Sia i livelli ormonali che troviamo sia l'inquadramento preciso di qual è la patologia di quella donna. Nella prossima diapositiva ci sono altri due studi interessanti. Se uno studio di intervento, somministrare una terapia prima della stipolazione nella procreazione assistita non ha modificato il rischio di abortività, non lo ha ridotto. E quando invece si parla di gravidanze spontanee, in gravidanza somministrare la terapia comunque ad una donna che ha anticorpi positivi ha dimostrato che non modifica il tasso di abortività. Quindi è veramente sempre più complessa la gestione di questi. Dobbiamo cucire la terapia come facciamo ormai sempre di più addosso al singolo paziente. E seguire come abbiamo detto prima la donna gravida passo passo praticamente in maniera molto molto stretta. Senta, quanto è grande il rischio di alterazioni dello sviluppo del bambino, del futuro bambino, del nascituro? Allora il rischio possiamo dire per grosse linee che va ridimensionato nel senso che è consistente e nella prossima diapositiva c'è una serie di studi che hanno dato una grossa alert alla società, alla comunità dei medici. Perché? Perché la segnalazione che ci sia uno ridotto, non sufficiente, non completo sviluppo cognitivo, motorio e linguistico ha gettato nel panico la maggior parte delle donne con tiroidità autoimmune in gravidanza. Ma questi studi che sono stati condotti in maniera sempre più stringente hanno dimostrato che lo sviluppo può essere alterato solo per valori TSH di ipotiroidismo franco o per valori di tiroxinemia ridotti rispetto al limite minimo di normalità. Sono studi di una complessità veramente notevole perché valutare il quoziente intellettivo di un bambino a tre anni ci si è detti ma che significato A, siamo veramente in grado di capirlo? Sono stati rivalutati a cinque anni, alla fine sono stati rivalutati anche a nove anni e mezzo. Intanto una cosa interessante si è vista che i valori determinati di quoziente intellettivo a tre anni erano predittivi di quelli che poi avremmo visto a nove anni e mezzo, quindi non avevamo torto. E poi che per osservare veramente un'alterazione di sviluppo bisogna avere un quadro francamente di patologia. Come si risolve questo rompicapo? In conclusione come si decide di trattare? Allora abbiamo alcune situazioni direi bianco e nero. Sì, no. I pazienti con terapia, queste sono le raccomandazioni appunto dell'American Taroid Association, in gravidanza devono essere trattate sempre le pazienti con TSH superiore a 10, qualunque sia il loro quadro di contorno. Non è raccomandata nelle pazienti che hanno un TSH inferiore a 4 e hanno gli anticorpi negativi, in tutti i quadri intermedi deve essere valutato da caso a caso, non solo facendo riferimento come qui elencato alla presenza o meno di anticorpi positivi ai livelli di TSH e aggiungerei di T4, ma soprattutto considerando la storia clinica. È diverso l'atteggiamento nei confronti di una donna che ha avuto parti prematuri in precedenza, che ha avuto aborti senza una causa riconosciuta, quindi deve essere presa in considerazione. Abbiamo delle altre deputative, ecco questa. Questi sono un modo di riassunto, negli aspetti materno-fetali ormai evidenti. L'ipotiroidismo franco dà certi effetti negativi, quindi deve essere trattato perché possiamo avere infertilità, avvorto, complicanze della gravidanza come il distacco di placenta, il parto pretermine o la nascita di bambini piccoli per l'età gestazionale e con sviluppo cognitivo, motorio, non idoneo. E quindi in questi pazienti la terapia si fa, non solo. Se lo sappiamo prima del concepimento, cerchiamo di portare il TSH al di sotto di 2,5, che è quello che viene considerato sempre di più il cut-off superiore di funzione tiroidea. Altra diapositiva, l'ultima che avevamo preparato, questa? Il caso più complesso dei dati controversi che si hanno nelle pazienti con un ipotiroidismo minore, con una presenza di tiroidite croniche autoimmune, funzione normale, perfettamente normale, subottimale, va valutato da caso a caso e comunque fondamentale è il monitoraggio. Come dicevamo prima, sono pazienti da seguire strettamente. In caso di gozzo, gozzo tiroideo o di noduli in gravidanza, dottoressa, come ci si comporta? Come si affrontano queste situazioni? Anche in questo caso direi che la modalità di studio è sempre la stessa, quindi una raccolta dell'anamnesi molto dettagliata, una sequenza di atti come la visita, il prelievo di sangue per le valutazioni laboratoristiche, l'ecografia e qui diventa più importante probabilmente l'acqua aspirato, ovviamente sempre evitando le metodiche di medicina nucleare. L'acqua aspirato è quello che con la guida dell'ecografia consente una diagnosi nei casi in cui abbiamo delle perplessità. L'ecografia cosa può dirci? Che cosa può svelarci in queste situazioni? Ci sono degli aspetti morfologici che noi vediamo nelle immagini della prossima diapositiva che allarmano che sono criteri di sospetta malignità come un nodulo fortemente epoecogeno, cioè scuro con le immagini in alto a destra, il nodulo singolo ha una probabilità maggiore di rappresentare un rischio di malignità, la presenza di calcificazioni microscopiche intranodulari, una crescita particolare che qui c'è una traduzione dall'inglese che forse non è perfetta, il nodulo che si approfonda di più, quindi è più profondo che non largo, un nodulo che cresce rapidamente, è anche questo sospetto, è ancora di più noduli che hanno l'infadenopatie regionali. Se il tumore è maligno come viene trattato? Allora la terapia di un nodulo maligno in gravidanza deve seguire intanto la logica del trimestre di gravidanza, perché se la diagnosi viene fatta nel terzo trimestre di gravidanza si è dimostrato che aspettare il parto non incrementa granché il rischio, quindi la prognosi non è peggiore. Nelle pazienti in cui invece la diagnosi è fatta nel primo e nel secondo trimestre di gravidanza si può attendere il secondo trimestre stesso, che è quello in cui il rischio chirurgico è minore. Parliamo sempre di tumori che non siano fortemente aggressivi come praticamente mai accade. Capita anche di avere pazienti che sono già state trattate chirurgicamente e devono fare la terapia di completamento. Ovviamente la terapia con radio iodio è controindicata, assolutamente non accessibile alle pazienti in gravidanza e quindi deve essere rimandata, cosa che peraltro nei tumori tiroidei è possibile. Nelle pazienti già trattate invece da tempo assume un ruolo chiave la perfetta posologia della terapia nei rischi che abbiamo detto di ormoni tiroidei a livelli non adeguati in gravidanza. Chiudiamo questa trasmissione con quali considerazioni finali, che raccomandazioni si possono dare ad una donna che desidera una gravidanza e che potrebbe magari essere a rischio malfunzionamento della sua tiroide? Intanto a questa risposta direi prima di tutto ricordiamo il discorso della frequenza. Le patologie tiroidee sono in generale molto frequenti nella popolazione, sono più frequenti nelle donne, quindi se calcoliamo che il 20-25% della popolazione ha una patologia tiroidea, una qualche patologia tiroidea, da quelle disfunzionali a quelle nodulari, ci rendiamo conto di che probabilità di rischio ci sia in gravidanza. Quindi sicuramente deve effettuare una valutazione della tiroide ogni donna che ha una familiarità positiva, soprattutto per le tiropatie, è ancora di più una storia personale di pregresse e malattie della tiroide oppure di malattie autoimmuni, perché le tiroidite autoimmuni sono più frequenti nelle donne, e anche quelle che hanno una storia di aborti spontanei ripetuti o di parti prematuri, tanto più quelle che hanno sintomi suggestivi o di ipodi per tiroidismo. Poi abbiamo tante donne in gravidanza che sono già trattate per malattie tiroidee, in queste ricordiamoci che i controlli di laboratorio sono stretti, nel primo semestre di gravidanza è raccomandato anche ogni 4, massimo 6 settimane, per adeguare queste terapie ed avere sempre i valori ormonali ritenuti idonei per la gravidanza. E di assumere regolarmente le medicine per queste malattie, in particolare le pazienti che assumono tiroxina, se nel primo trimestre vomitano, quindi devono essere eseguite cercando di modificare gli orari di assunzione o le formulazioni di assunzione per avere sicuramente un buon assorbimento di questi farmaci. E chiudo, ma mi sembra veramente una cosa che sempre più deve essere di acquisizione comune, l'apporto iodico in gravidanza è diverso ed è indispensabile che sia adeguato. Però mi sembra anche di capire che si riescono a tenere sotto controllo queste situazioni, anche per donne che soffrono di disfunzioni tiroidee e che affrontano una gravidanza, diciamo che la possano affrontare con una certa serenità. Con gli adeguati controlli, secondo me, il rischio è veramente molto basso. Il problema è di donne che non si controllano o non sanno di doversi controllare e su questo si innesca tutta la polemica che c'è sempre stata, dobbiamo fare screening, non dobbiamo fare screening, il rapporto costo-beneficio, quanto può essere. Però adeguandosi a quelle che sono le raccomandazioni, appunto, storia personale, sintomi, storia familiare e malattie più frequentemente associate, secondo me, non si dovrebbero perdere pazienti. È un controllo stretto, come abbiamo detto più volte, per tutto il periodo della gravidanza. Grazie, grazie alla dottoressa Gaetana Parisi, grazie per essere stata con noi, dottoressa, per aver trattato in maniera così approfondita, lineare, ma anche semplice, questo tema del rapporto tra tiroide e gravidanza. Quanto è importante e che rischi corre sia la donna che il futuro bambino. Dottoressa Gaetana Parisi, specialista in endocrinologia, casa di cura Pierangio di Pescara. Grazie per essere stata con noi, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione, grazie a voi telespettatori per averci seguito anche questa settimana con affetto e attenzione. con voi ci vediamo tra sette giorni esatti, gli orari sono gli stessi, ma naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.